Sto andando a preparare i giri e i genitori, visitare i genitori, i genitori, i genitori e i genitori, tanto bene a tutti i genitori, con i genitori e i genitori, con i genitori e i genitori, bravissima perda, ma l'attene che mi trova dentro, che perda, brava perda, brava perda, brava perda! Grazie!